è possibile calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ritardata registrazione o pagamento. Durante la compilazione del dettaglio dell'adempimento selezionato potremmo utilizzare il tasto calcola ravvedimento peroso che ci proporrà i risultati del calcolo di sanzioni e interessi su imposta di bollo e registro se dovuti a seguito dell'immissione della data di scadenza e di quella di pagamento. Tali valori saranno riportati distintamente anche nella stampa del modello RLI. In caso di presentazione cartacea si potrà stampare il modello F24 Elide. In caso di adesione all'acedolare secca il calcolo del ravvedimento peroso sarà il medesimo anche se verranno applicate sanzioni differenti e, pur non dovendo liquidare l'imposta di registro, verranno comunque calcolate le sanzioni. Grazie. 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 Grazie.